Siamo andati dietro le quinte della nuova serie Disney Alex & Co per scoprire qualcosa in più sui personaggi e i protagonisti di questa nuova storia. Ciao sono Sao Nanni, il mio ruolo è Cristian. Avete mai visto uno più figo? Cristian è il ragazzo bellone se si vuol dire della scuola. Lui è un gattone. Con questo che ne dite? Le conquisto le ragazze. Cristian sei sempre il solito. Sicuro di sé, spavaldo, però non arrogante. Sei il nostro nuovo capitano. Ringrazio l'azione di capitano. È un ragazzo molto consapevole però non se la tira per niente. Solo fortuna. Hai giocato molto bene. È molto molto tranquillo, estroverso, sa di piacere alle ragazze però non se ne vanta ed è questo il bello di Cristian secondo me. Qualcuno non vuole far aspettare se fanno. Un gentiluomo non si fa mai aspettare. Io che comunque con le ragazze sono un po' Don Giovanni, aiuto Alex quando lo vedo per esempio innamorato di Emma. Comunque lo sai che se hai bisogno di un consiglio io sono il numerone dell'appuntamento. È molto tranquillo, ha sempre il sorriso. Tu sai che sai vedere il bicchiere mezzo pieno. Gli piace il calcio, ci sono un sacco di ragazze che gli vanno dietro. Popolare, è bravo nel calcio. Tutte le ragazze si innamorano di lui. Però insomma, tutte e nessuna. Ciao Cristian. Ciao. Come fa la tua gamba? Stava meglio prima di incontrare quella del tuo fidanzato. Prima era Tommy il top e adesso invece arriva Cristian e gli ruba un po' il posto sia nella squadra sia come più bello della scuola quindi c'è un po' un rapporto tesi. Hai paura caccoletta? Per niente, ci vediamo sul campo. Linda è totalmente innamorata, persa, perché sta diventando il più popolare, sta prendendo il posto di Tom. Ricordati che senza rischiare un po', non si tiene nulla. Saul nella vita reale. Saul è divertente, pigro, ho un po' con la testa fra le nuvole, si dimentica spesso le cose. Fa battute, mi fa sempre morire da ridere. Adesso in questa scena non ci sono e sono venuta a vedere i miei compagni. Sono molto curioso. Mi metto l'acqua così non mi si vede. Ciao. Assomiglia molto al suo personaggio. Non è assolutamente una persona spavalla, non è assolutamente arrogante, non è assolutamente sicuro di sé, sempre anzi pieno di dubbi chiede sempre costantemente consigli. Non è facile, è vero Angelo, dillo anche tu che non è facile. Facciamo una prova completa di nuovo. Tre, undici, cinque prima. Buona notizia ragazzi. Professor Belli? Ci siamo tutti o aspettiamo qualcun altro? Volete sapere cosa succede? Guardate questo Alex in Go. Siamo molto amici, siamo molto legati, ci aiutiamo a vicenda in tutto, ci vogliamo un bene dell'anima, come fratelli. Come stai? Meglio. Quando un amico ha bisogno di aiuto chiede subito, ehi tutto bene? Posso fare qualcosa? Pensate che stamattina mi ha portato la colazione in camera perché non mi era svegliato. È uno di quei ragazzi a cui tu non puoi non volere bene. Un saluto a tutti i fan di Disney Channel, da me è Saunami. Ciao. Alex & Co, una nuova serie, prossimamente solo a Disney Channel.